Carissimi amici e carissime amiche, questa puntata è senza sigla perché vi voglio dire una cosa. Oggi ha compiuto 60 anni Luciano Ligabue, quel cantante preferito di quel deficiente di Milano. Quel deficiente di Milano è tanto imbecille quanto il fratello della pazza insultante. Data l'ora tarda non posso cantare qualche canzone di Luciano Ligabue. Vi prometto, cari amici e cari amiche, che la canterò nel corso di questa settimana. La regola è quella che la nostra fascia orario serale è dalle 9 alle 9.45, ma siccome sono quasi le 10, vale a dire le 22, non posso cantare, non posso esibire qualche brano di Luciano Ligabue. Perché è la nostra regola. Bene, con questo è tutto, signore e signori. Auguro a tutti quanti voi felice serata e notte per tutti quanti voi. Grazie. 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 Grazie.